Niente, volevo ringraziare lo Stato italiano per avermi tassato lo stipendio qualcosina in più dell'anno precedente, altre 200 euro detratte dallo stipendio mensile, cioè arriviamo quasi al 40% delle tasse oltre a quelle mensili che quotidianamente ci devono, dagli straordinari, dalle vigilanze, dallo stipendio stesso, dalle tasse regionali, comunali, continuiamo a essere depauperati del nostro stipendio, oltre a questo ovviamente ci paghiamo le nostre malattie professionali, ci paghiamo le spese sanitarie perché ce le abbiamo coperte parzialmente, ovviamente non voglio essere così lamentoso perché capisco perfettamente che c'è chi sta peggio di noi, però un'attenzione particolare per i vigili del fuoco che quotidianamente rischiano la vita ci dovrebbe essere, un'attenzione particolare a non levarci tutte queste economie dalle tasche perché anche noi abbiamo le nostre famiglie, c'è chi ovviamente non lavora e dovrebbe avere un posto di lavoro perché lo Stato italiano dovrebbe garantire quantomeno un posto di lavoro a tutti per poter vivere quotidianamente, cosa che purtroppo ogni anno peggiora, non parlo né di destra né di sinistra perché abbiamo visto che purtroppo il fallimento è totale e la crisi attanaglia il nostro paese costantemente. Niente, sono molto arrabbiato così sicuramente come lo sono tutto il resto dei vigili del fuoco d'Italia che vedranno anche quest'anno dimensato il loro stipendio. Dobbiamo pagare le nostre vite quotidiane ovviamente, dobbiamo, siamo costretti allevare alla nostra famiglia quello che mensilmente gli diamo, cioè quel pizzico in più. Anche una pizza quotidiana dovremmo poterla permettere, invece questo mese la terremo da parte per giorni migliori, quando dovremmo lavorare di più per guadagnare di più e poterci permettere qualche piccolo sfizio che purtroppo negli anni sta andando sempre a essere defalcato dalle nostre vite quotidiane perché le tasse aumentano e gli stipendi diminuiscono. Cioè quel finto acconto del rinnovo contrattuale che a dicembre ci hanno distribuito, come già abbiamo ben visto, sta cominciando ad essere spalmato nei mesi, oltre a non vedere l'aumento contrattuale che già è scaduto da tre anni. Come vigile del fuoco posso parlare? Ovviamente non entro in merito delle altre categorie che sicuramente c'è chi sta sempre peggio. Questo ci tengo particolarmente a precisarlo e a puntualizzarlo. Parlo per la categoria dei vigili del fuoco che costantemente riceve pacche sulle spalle, medaglie di cartone e poi viene totalmente abbandonata a se stessa. Una buona giornata. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.